Musica C'era una volta un bambino che voleva ascoltare le storie di Gesù e la sua mamma ha preparato con pane e pesce ascoltavano Gesù con tanta allegria Quando il bambino è arrivato, è arrivato nel monte e c'erano tante persone che il discepolo ha detto Gesù manda la gente a casa e lui ha detto Gesù aveva da tanto tempo dell'amore di Dio e era già tardi e le persone erano stanche e molto affamati il discepolo ha detto non abbiamo cibo da mangiare e la gente e nemmeno soldi se non guardate quello bambino che ha offerto il suo pane e il suo pesce grazie signore per questo alimento Il discepolo l'ha scherzato ma che questo non è niente Gesù ha condiviso il cibo con tutta la gente Gesù è stato molto carino, era mamma Gesù ha fatto il miracolo con la moltiplicità Gesù ha fatto il miracolo con la moltiplicità Gesù ha fatto il miracolo con la moltiplicità